Non esistendo né passato né futuro. Perché la libertà dell'uomo è relativa? Commento. Perché non esistendo nella realtà né passato né futuro, ma solo l'eterno presente, le scene della nostra vita passata e futura esistono infrequentate da noi, mentre quelle della nostra vita passata sono state frequentate. Quelle della nostra vita futura non sono state ancora frequentate, ma lo saranno. Come si concilia questo concetto con il libero arbitrio che, secondo alcuni maestri immateriali, si riduce ad una libertà relativa? Si concilia così noi relativamente, da qui la libertà che è relativa alla nostra evoluzione, frequentiamo quelle scene che esistono da sempre nella storia del cosmo, come esistono tutte le possibili esperienze di ognuno. Immaginiamo un tavolo su cui siano sciorinate tutte le lettere dell'alfabeto. Quel tavolo è il cosmo. Ora immaginiamo l'individuo che sceglie le lettere per scrivere le sue parole, cioè le esperienze della sua vita. Da dove le attingerà? Dalle lettere dell'alfabeto, dalle singole scene esistenti in eterno, sul tavolo che abbiamo chiamato del cosmo. Solo in questo senso la storia di ognuno è già scritta. Sta infatti all'individuo limitato dalla sua evoluzione scegliere le lettere, le esperienze, le parole, le scene già esistenti con cui scrivere la sua vita e le sue vite.